Ciao a tutti e benvenuti nel nostro video su Taylor Swift. Taylor è senza dubbio una delle cantanti e songwriter più famose e influenti della nostra generazione, con una carriera che va avanti da oltre 15 anni. Dal suo debutto nel 2006 con l'album Taylor Swift, che l'ha resa una star della musica country, Taylor ha continuato a pubblicare hit di successo che hanno spaziato dal country al pop e all'indie rock. Ha vinto numerosi premi, tra cui 10 Grammy Awards, e ha venduto oltre 50 milioni di album in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera musicale, Taylor è anche nota per la sua vita privata, spesso al centro dell'attenzione dei media. Ha avuto relazioni con alcune delle più famose star del mondo e ha parlato pubblicamente delle sue esperienze personali, ispirando milioni di fan in tutto il mondo. Con una carriera in continua crescita e un impegno sociale e politico che la rendono un'icona della musica e della cultura popolare, Taylor Swift è sicuramente una delle artiste più importanti della nostra epoca. Grazie per averci seguito in questo video su Taylor Swift. A presto! Grazie per averci seguito in questo video!